La prea femminile che entra sul piano vasca l'1 agosto del 7 Giulia Isntino Sala Aragno, treze tempo 79 sul passaggio Saranagno per notare il snuoto l'età del 2000 è il primo anno di categoria calente categoria assoluta per quanto riguarda questo vinti il 1-3 e 87 è un primo riferimento della farfalla femminile e dunque terza materiale a partenza